Ragazzi per presentarvi questo video dobbiamo fare un bel salto nel tempo all'indietro a più di un anno fa Più precisamente il 29 marzo del 2022 Ero sorpreso dal numero di visualizzazioni che aveva fatto il video dello skate E sapete tutti come è andata a finire Quindi E' arrivato! Ottimo! E' il colpo del diritto Quanto mi paghi per questa ripresa? Zero Fai il ruoto alle ruote Girano Guardate qua Andiamo subito fuori a provarli E' instabilissimo Taglio ora Taglio ora Taglio ora Taglio ora Taglio ora Taglio paura Ciao fra Mi fumo? No io non fumo Grande piedino bucato La prima giornata di fallimento Si è conclusa Ciao ciao Eccomi qua il giorno 2 L'obiettivo di oggi è riuscire a saltare questo cazzo di palo Proviamo Cazzo ragazzi è il primo colpo Facciamo qualcosa ancora di più difficile Che è andata a fare questa ripresa La prima giornata è nuova Ma è andata a fare questa ripresa? Che è andata a fare questa ripresa? E' andata a fare questa ripresa? Ha passato tanto tempo ragazzi perché sono stato positivo al covid Bene siamo qua a Skid Park per ricognizione Infatti siamo venuti con le BMX Facciamo qualche giretto E' passato un po' di tempo da quel lontano pomeriggio Nel frattempo sono riuscito a bucare un altro paio di scarpe che ho riparato con della colla a caldo Però adesso facciamo qualcosa L'ho crepato un bel po' Son passate molte settimane da quando l'ho crepato ma finalmente non avrò più riprese imperfette Ok ragazzi è impossibile PEM Ebbene ragazzi il video purtroppo finisce qua Mi dispiace C'è un motivo se non è mai stato pubblicato Perché non è mai stato finito Però purtroppo ora vi devo salutare Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi 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 Grazie a tutti